Non dobbiamo soltanto manifestare qui, così come siamo tra pochi amici, i nostri sentimenti, noi vorremmo l'umanità unita, noi dobbiamo domandarci come si arriva a raggiungere quella meta a cui l'umanità nei suoi vari millenni non è ancora arrivata, come ci si arriva non è cosa facile, quando le due culture si rispettano cominciano anche a fare amicizia fra di loro e ci accorgiamo che nonostante le diversità delle nostre culture ci sono delle idee comuni. Il desiderio è quello di fare della città una scuola, sia ben inteso, non la scuola così come è, ma di diventare una comunità educativa, le piazze devono diventare delle aule, le strade devono diventare dei percorsi, in fondo la notte dei filosofi è questa, cioè quella di liberare la parola della filosofia e quindi di liberare il desiderio della filosofia. Che cosa intendiamo per democrazia? Per democrazia forse insomma è l'utopia interiore di tutti quanti noi e me che significa piuttosto libertà, ecco la libertà, è l'espressione della libertà, non è più questione di intendere il potere del popolo, no, è piuttosto di intendere la libertà di tutti per una cittadinanza che sia senza nazione. Non un festival della filosofia, piuttosto qualcosa che rievoca l'assemblea notturna delle leggi di Platone. La nuova edizione della notte dei filosofi è un omaggio alla democrazia, al desiderio e alla nostalgia del suo avvenire. Promossa dall'assessorato alla cultura e dall'associazione filosofia fuori le mura, dal 5 al 7 dicembre al maschio angioino ci saranno mostre, dibattiti, incontri con le scuole, musica, l'assemblea dei filosofi e in conclusione il processo alla democrazia. È una dimensione del vivere la filosofia nella città più filosofica del mondo, una provocazione per una riflessione, per convocare la città e incontrarsi e soprattutto quest'anno affrontare un tema che purtroppo è diventato di questi nostri tempi particolarmente controverso e drammatico, quando ormai sembrava invece essere di senso comune, cioè l'organizzazione di una piena vita democratica. Tutto è di nuovo in discussione, impulsi autoritari mettono in discussione la convivenza democratica e il pieno sviluppo della democrazia. La democrazia è nata nelle città e quindi Napoli vuole essere la città in cui ripensare la democrazia vuol dire ridare le nuove linfe, nuovi slanci e nuova partecipazione.